Fratelli e sorelle, buonasera, bentornati e bentornate a questo nostro studio biblico. Continuiamo a parlare dell'umanità di Dio e vi devo confessare che il tema è abbastanza ostico per me e risento molto del fatto di lavorare in solitudine senza poter avere i vostri contributi, quindi vi invito ancora una volta a commentare ovunque e comunque, anche con messaggi privati, perché è importante che possiamo continuare a portare avanti la nostra discussione anche in tempi come questi, altrimenti un canale a senso unico ha poco, poco senso per la nostra vita di Chiesa. Stavamo parlando, dicevamo, dell'umanità di Gesù e ci eravamo lasciati con una domanda. Se Dio è Dio, anche il suo essere uomo sarà più che umano? Facciamo un ripasso. Abbiamo detto che la base da cui partiamo per giudicare in cosa consista l'umanità è un essere di razza umana, e qui siamo facilitati, essendocene una sola, che condivide queste caratteristiche. Questo essere umano è nato, è dotato di sensi per analizzare e di intelletto per capire il mondo, ed è bisognoso di relazione, maschio o femmina, che sia. Persone diverse avranno caratteristiche diverse, ma più o meno questo vale per il generale. In questi termini, secondo quello che abbiamo detto la settimana scorsa, possiamo rispondere subito alla domanda iniziale. Gesù è umano, ma non è più che umano. Non è santo, dicevamo, perché si comporta a tutti gli effetti come un essere umano qualunque, e anzi viene furiosamente criticato per i suoi atteggiamenti poco inclini alla morale e alla religione del tempo, come mangiare e bere con tutti e tutte, frequentare le persone sbagliate e violare le leggi sacre. Non è un martire, in senso tecnico, perché la sua morte è l'atto salvifico stesso, secondo noi cristiani, e non la sua testimonianza. E in senso politico, perché viene ucciso proprio perché è ritenuto blasfemo dalla religiosità di riferimento, non certo perché viene ritenuto un testimone. Infine, non è un eroe, perché la portata delle sue azioni non è ridotta ad una fetta di umanità, ma soprattutto non è un eroe tragico, perché il suo non è un inutile opporsi contro il fato e un potere assurdo e contrario all'umanità, ma è il divino che si fa umano per scontrarsi proprio con le radici del potere umano, civile e religioso, e indicare un modo d'azione che non sia costretto a diventare disumano per trionfare. La scelta di Gesù non è comune, ma non è eroica o sovrumana, è profondamente umana, e in questa umanità scorgiamo la potenza e la divinità di Dio. Il Vangelo di Giovanni, dopo un inizio molto filosofico, prova a spiegare questa necessità dell'incarnazione. Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è nel cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque creda in lui abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque creda in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Giovanni 3, 13, 17. Dio scende tra di noi in Gesù Cristo per poi risalire e il motivo di questo è che gli esseri umani facciano esperienza di Dio anche come unigenito figlio per poterne poi condividere l'eternità. L'intento di Dio è che avendolo conosciuto attraverso l'incarnazione, noi possiamo finalmente avere una relazione con l'umanità di Gesù, partecipare alla sua eternità, di cui possiamo fare esperienza solo attraverso l'umanità. Dio poteva presentarsi a noi in altri modi? Certo, la Bibbia ci racconta la storia del popolo d'Israele con il quale Dio ha un rapporto strettissimo, ma mediato da altre figure. Abbiamo Mosè e i profeti e i re che sono umani, ma non possono incarnare l'umanità per Dio, né la divinità per gli esseri umani, anzi la Bibbia si guarda bene dal dare mai dei poteri divini a queste figure. Abbiamo quindi la legge che è eterna e immutabile, eppure è costretta ad adeguarsi al mutare del mondo, tanto da rischiare di finire fuori traccia, come dice l'Apostolo Paolo, diventando per noi più un evidenziatore di peccato che uno strumento di salvezza. La mediazione umana e la parola di Dio sembrano non bastare nell'esperienza dell'Antico Testamento, ma per Dio rimangono gli unici strumenti possibili. Così Dio sceglie di prendere su di sé questi due elementi, questi due strumenti che erano in mano umane, e li incarna in Gesù Cristo, vero uomo e allo stesso tempo parola eterna di Dio. Ora, Dio può parlare come un uomo, e un essere umano può spiegarci Dio, compiendo sì una mediazione per noi, ma senza che lui stesso ne abbia bisogno di questa mediazione, come dire, come un traduttore madrelingua. Parlerà la lingua di Dio nella nostra lingua senza doversela tradurre prima. Dio decide di spiegare chi sia Dio stesso raggiungendo lo stesso livello degli esseri umani, condividendone la natura e diventandone partner, socio. Questo è quello che la Chiesa intende, da secoli, parlando dell'incarnazione come l'abbassamento di Dio, attraverso cui l'uomo può essere elevato. Dio si serve di Gesù come mano tesa per invitarci a sé. In questo Gesù è unico e necessario mediatore tra noi e Dio. Sant'Agostino, parlando del cammino dell'uomo e riferendolo a se stesso, dice Io tento da lontano di tornare per la strada costruita dall'umanità della divinità del suo unigenito. L'umanità della divinità di Gesù. Questo non vuol dire che Dio smetta di essere Dio. Questa incarnazione, questa assunzione di umanità è sovranamente costituita, determinata, delimitata e ordinata da Dio stesso. Ma proprio per questo è identica all'umanità che noi conosciamo. Dio decide non di prendere un'altra cosa, di fare un'altra umanità, ma di incarnarsi nella stessa identica umanità che è stata a noi determinata. Dio non è limitato, ma è libero di imporsi dei limiti. Solo chi, essendo divino, è libero di diventare umano, può possedere sia il carattere della divinità che quello dell'umanità. Per questo Dio in Gesù Cristo nasce, perché senza questo gesto noi non riconosciamo l'umanità. In questa settimana, anzi proprio oggi, è arrivata una domanda e proviamo a rispondere invece di usare la grande quantità di materiale che ho accumulato per questi studi. Mi scuserete se questa risposta sarà poco approfondita, proveremo a riprenderla nei prossimi studi. La domanda è la seguente. Un credente ha bisogno di una relazione personale con Dio attraverso Gesù. e credere in Lui per vivere ora l'anticipo del regno. L'uomo Gesù, essendo lui stesso l'intermediario fra umanità e Dio, come si poneva in questa relazione? Alla pari o come creatura? Quindi, se è vero che un essere umano ha relazione con Dio, quale relazione c'era fra l'umanità e la divinità di Dio, cioè tra il Padre ed il Figlio? Gesù si pone con il Padre in maniera paritetica, insomma, o subordinata. Sapete che non sono solito dare risposte secche, ma una volta tanto la risposta è chiara. Subordinata. Sembra sempre evidente in ogni parte dei Vangeli che Gesù si rivolga a Dio Padre con la stessa deferenza che noi useremmo nei confronti dei nostri genitori, anzi di più. Quale che sia la reale relazione in Dio di queste due nature, per quello che a noi è mostrato, Gesù è subordinato alla volontà del Padre, sebbene la comprenda e sia partecipe di tutte le scelte e delle loro conseguenze. Facciamo alcuni esempi. Gesù prega. E' evidente che la relazione, già solo da questo fatto, si chiarisce. Nei Vangeli leggiamo Dopo aver congedato la folla, si ritirò in disparte sul monte a pregare, e venuta la sera, se ne stava lassù, tutto solo. Matteo 14, 2 Poi, la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto, e la pregava. Marco 1, 35 Ora, mentre tutto il popolo si faceva battezzare, anche Gesù fu battezzato, e mentre pregava, si aprì il cielo. Luca 3, 21 Gesù prega La preghiera di Gesù ha diversi obiettivi. Molto raramente nei Vangeli sinottici, quantomeno è didattica, Gesù non prega per spiegare agli altri, di solito Gesù prega per se stesso. Insomma, per Gesù la preghiera è un momento di condivisione e relazione profonda con il Padre, che gli evangelisti pongono molto chiaramente a cornice delle scelte più importanti della vita di Gesù. Spesso Gesù per pregare si isola, perché non tutta la relazione con Dio può e deve essere svolta in comunità. Dio ha con noi una relazione da cuore a cuore, ed è importante anche per noi, anzi, ancora di più per noi, prenderci dei tempi in cui essere con Dio in modo diverso dal culto o dalla condivisione della parola, e poter essere diversi e diversi da come siamo e ci mostriamo in pubblico. Nudi e nude davanti a Dio, potremmo dire. Ma noi sappiamo per certo che la relazione tra Gesù e il Padre non è la migliore in ogni minuto. Il fatto che ci sia una relazione stretta e che questa si svolga in preghiera, il fatto stesso che ci sia una sostanziale comunione di intenti fra Dio e Dio, tra il Figlio e il Padre, non significa che Gesù sia un burattino nelle mani di un potere incomprensibile. Tutti conosciamo l'amara preghiera di Gesù nel Gezzemani, così come è riportata dai tre evangelisti sinottici. Andato un po' più avanti, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, quell'ora passasse oltre da lui. Diceva, Abba, Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, però non quello che voglio io, ma quello che tu vuoi. Leggiamo in Marco 14. E andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra pregando e dicendo, Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Di nuovo per la seconda volta andò e pregò dicendo, Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me, senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Matteo 26. E infine nel Vangelo di Luca leggiamo, egli si staccò da loro circa un tiro di sasso e postosi in ginocchio pregava, dicendo, Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Allora gli apparve un angelo dal cielo per rafforzarlo. Luca 22. Le parole che troviamo più pesanti in questi passi sono quelle che ci fanno percepire la sofferenza, l'agonia quasi, di questa richiesta di Gesù. Non possiamo assolutamente negare la posizione di assoluta umanità in cui si trova Gesù. Sta per morire e sa che non vuole. Non possiamo nemmeno non notare che la sua posizione è diversa da quella di qualunque altro essere umano. Lui sa che sta per morire, non per sensazione o paranoia, ma con certezza e soprattutto sa perché dovrà soffrire. La divinità di Cristo in questa scena ha solo questo ruolo e nessun altro. Non dà nulla in più a Gesù se non la consapevolezza del perché. Addirittura il Vangelo di Luca ci mostra un angelo mandato per dare forza a Gesù, un surplus di divinità di cui è chiara l'importanza. Chi non avrebbe avuto bisogno di un incoraggiamento in quel momento? L'umanità di Cristo però non si dimostra solo nell'allontana da me questo calice, ma anche nella tua volontà sia fatta. Innanzitutto queste parole sono le stesse della preghiera che Gesù ci ha insegnato perché la usassimo. Quindi sono parole pensate per gli umani imperfetti, peccatori, facili all'errore, come noi. E soprattutto perché Gesù non si rifà ad una propria autorità, data dall'essere vero Dio, ma si rimette alla volontà divina che in questo momento lui percepisce superiore a lui stesso. La scelta di Gesù di andare avanti col piano, insomma, non è una scelta del Gesù Dio, ma propria e totalmente propria del Gesù uomo. L'umanità di Dio, che è umana come tutti e tutte noi, accetta la morte perché conosce la vittoria, quello sì per via della divinità. Lo stesso Gesù che implora in sofferenza sarà quello che accuserà Dio di averlo abbandonato, in agonia, e che rimetterà lo spirito nelle mani del Padre, constatando che tutto è compiuto. Oggi abbiamo visto quindi che il rapporto tra l'umanità di Cristo e Dio Padre è molto simile, anzi identico, fino alle sue estreme conseguenze alla nostra umanità. L'umanità di Dio non è più umana della nostra, ma forse può insegnarci comunque qualcosa. Proveremo la settimana prossima a vedere se, per esempio, l'umanità che Dio mette in campo in Gesù Cristo, se non migliore, potrebbe essere più coerente della nostra e cosa potrebbe insegnarci. Come l'umanità di Dio può rendere noi più umani? Pensateci, condividiamo le nostre idee. Ne riparleremo meglio la prossima settimana. Questa è l'unica domanda con cui vi lascio. Come l'umanità di Dio può rendere noi più umani secondo voi? Grazie intanto e buona serata.